Il video in diretta sta iniziando, eccoci qua. Parliamo di Pantani, di Pantani, del mistero Pantani. Ci siete? Il mistero Pantani, questo è il mio solito vecchio giornale. Allora, il mistero Pantani. Buongiorno Eugenio, questa era la copertina del mio giornale nel nome della maglia rosa perché erano venute fuori alcune novità, alcune dichiarazioni. C'era l'avvocato, come si chiamava quell'avvocato che voleva, non mi ricordo se era l'avvocato Tormina, non era l'avvocato Tormina, però c'era l'idea. Ah no, c'era stata la dichiarazione del generale in pensione della guardia di finanza, no generale, scusate, Umberto Rappetto che voleva riaprire il caso, era consulente della famiglia e diceva che c'erano delle novità. Allora, c'erano state delle dichiarazioni, dei boatos che arrivavano dal carcere, addirittura Renato Vallanzasca che diceva che c'era stato lo zampino della camorra, dell'andrangheta o di quant'altro per le scommesse quando lui fu trovato positivo al doping, no, tutte palle. Intanto Vallanzasca riportò confidenze raccolte in carcere che a mio avviso suonavano come un messaggio. Voi sapete che Vallanzasca è stato più volte protagonista nei processi contro pentiti della camorra, Melluso e altri, quelli che avevano fatto finire nelle grane il povero Enzo Tortora accusandolo falsamente di cose infamanti e Vallanzasca aveva avuto dei confronti duri con questi pentiti della camorra. Secondo me, quando parlò di Pantani, volle lanciare qualche messaggio perché è indubbio che Pantani avesse avuto dei problemi col doping durante la sua attività, dei problemi diciamo importanti che io peraltro mi riportai in questo mio libro Campione di niente, miti in provetta, dove raccontavo che non c'era uno sport esente dal doping e che purtroppo anche il povero Marco Pantani fu trovato con valori di ematocrito molto fuori dalla norma. Ecco, c'erano anche delle tabelle. L'ematocrito misura la densità del sangue e se il sangue è troppo denso significa, queste erano, vedete avevo pubblicato anche le tabelle, se il sangue è troppo denso significa che c'è stata assunzione di eritropoglietina che è un ormone che serve ad aumentare la resistenza, ad aumentare il numero dei globuli rossi ma che fa correre rischi pesantissimi alla salute, addirittura può provocare la leucemia, può provocare delle trombosi mesenteriche, delle trombosi cardiache, può provocare tantissimi danni fino alla morte, come purtroppo è successo diverse volte. Pantani era stato fermato due volte dai carabinieri del nucleo antisofisticazione, della sanità, del NAS. Un'altra volta furono trovati questi valori alti, fu interrogato, quindi lui accertatamente ebbe a che fare col doping, una volta rischiò persino moltissimo quando ebbe un incidente vicino a Pino Torinese, dalle parti di Torino, fu poi dopo, si ruppa mi sembra una gamba, fu ricoverato al centro traumatologico, i medici non sapevano di questa in questione dell'epo, lui quindi per un tot di ore non assunse, insomma adesso le tempistiche precise non le ricordo, so soltanto che poi dopo quando lo aprirono per operarlo alla gamba rischiò un'emorragia perché l'ematocrito era passato da 50 a 60, il limite stabilito per legge il massimo i 50, era passato mettete da 60 a 28, quindi insomma rischiò di morire con un'emorragia, arrivarono i medici della sua società, cacciarono dalla stanza dove lui era ricoverato i medici dell'ospedale e disse no ce ne occupiamo noi perché appunto lì il discorso del doping era un discorso che questi atleti di tutti gli sport o assumono quelle sostanze o non li fanno neanche gareggiare, vale in tutti gli sport, calcio, ciclismo, nuoto, triathlon, curling, automobilismo, tutti o prendono quelle sostanze o niente, non si corre, vabbè questo è un altro capitolo, magari un giorno faremo una diretta sul doping, ma parliamo del mistero Pantani, allora il 14 febbraio 2004 Pantani fu trovato morto nella stanza numero 5, nella suite numero 5 del residence delle Rose a Riccione, quando gli investigatori carabinieri rientrarono trovarono una situazione diciamo molto molto particolare, cos'era un piccolo antefatto? Allora Pantani, Marco Pantani che era stato abituato ad essere al centro delle attenzioni, delle cronache, dei riflettori, era un protagonista, era un personaggio amato, adorato, adulato, venerato, improvvisamente si trovò per tanti motivi, compreso il discorso del doping, si trovò fuori dai riflettori, quindi cadde anche in depressione, ci sono delle foto drammatiche di lui in discoteca, seduto su un tavolino in discoteca a Cesenatico, quindi dalle sue parti dove era solo, se fosse entrato solo un anno prima in un locale pubblico sarebbe stato preso da assalto. Poi parliamo di Paolo Ferraro Stringaro perché Paolo Ferraro in questa storia c'entra ovviamente, Paolo Ferraro fece la più bella inchiesta contro il doping che sia mai stata fatta. E peraltro poco prima che Pantani fosse trovato morto c'è l'ipotesi che Pantani volesse proprio incontrare il dottor Ferraro che già si stava occupando di sette. Ma la più bella inchiesta sul doping, la prima inchiesta, sto rispondendo a Eugenio Stringaro che mi fa questa domanda, la prima inchiesta che incastrò in qualche modo Lance Armstrong, la fece proprio con le testimonianze anche di un ciclista di sezze romano, la fece proprio il dottor Ferraro che indagò anche Paolo Gibilisco, vi ricordate l'atleta italiano che aveva credo vinto qualche medaglia alle Olimpiadi nel salto. Insomma è stata forse la migliore inchiesta o una delle più efficaci inchieste contro il doping. Dopodiché Ferraro ha cominciato a occuparsi anche di altro, dopodiché hanno cercato di dichiararlo matto. Allora torniamo all'antefatto, dicevamo di Pantani in questo locale a Cesenatico dove si vede un Pantani solo, ingrassatissimo. Questa era una foto che era di due o tre mesi prima, di poco tempo prima della sua morte. Ricominciò ad allenarsi, peraltro c'era il timore che proprio per questo suo stato di depressione, capita molto spesso agli atleti che fanno uso di sostanze dopanti, avesse poi cominciato, si diceva, a fare anche uso di altre sostanze chimiche, che sono poi dopo al centro della ricostruzione della sua morte. Molto spesso peraltro quella sostanza, cioè la cocaina, viene utilizzata per coprire l'assunzione di sostanze dopanti. Questo è successo con alcuni calciatori per esempio. Allora lui aveva ricominciato ad allenarsi, era dimagrito tantissimo, aveva di nuovo un fisico diciamo scattante, tipo tartaruga, ma col sospetto che avesse anche ricominciato a prendere l'EPO, il GH, che è l'ormone della crescita. Quando sono entrati gli investigatori nella sua stanza, vedete questa foto, questa è la foto dei poliziotti che portano via il povero cadavere, il cadavere povero Pantani, fu trovato di tutto là dentro, comprese scatole di farmaci. Ma poi io andai il 14 febbraio, questa è la foto di quando lui era al CTO di Torino, che vi raccontavo che rischiò quell'emorragia. Io andai a Riccione e ovviamente parlai con gli investigatori, non fecero entrare i giornalisti nella stanza, almeno non tutti i giornalisti entrarono nella stanza, ma per terra c'era di tutto, c'erano scatole di farmaci. Però l'ipotesi diciamo investigativa, qua ci sono le altre foto di come stato in cui furono trovate le stanze della suite, vedete c'erano anche tutto per aria, tutto per aria. Il sospetto forte è che due pusher, che poi dopo entrarono anche nell'inchiesta, due pusher portarono la cocaina a Pantani, al pirata, alcuni sostengono che lui la fumasse, altri sostengono che la fumasse la pippasse, però portarono questa cocaina e c'è una, dalla ricostruzione degli spostamenti all'interno della suite ci sono tante cose che non tornano e c'è anche la possibilità che vi fossero altre persone, fossero entrate altre persone. Comunque, poi ci sono delle diatribe tra due medici legali che non coincidono, che non coincidono, uno forse voleva chiudere in tutta fretta. Il fatto sta che a un certo punto si sostenne che lui fu costretto a ingurgitare attraverso la bocca una quantità di sostanze stupefacenti che poi lo avrebbero ucciso. Ma la probabile presenza di altre persone sulla scena del crimine, quindi noi possiamo dire che la morte di Pantani con ogni probabilità non è naturale e non è un suicidio. La mamma di Marco Pantani sta ancora lottando coraggiosamente, qual è la verità sulla sua morte? Io su questo non mi esprimo perché non sono così convinto che l'azione della famiglia di Pantani sia stata un'azione producente e produttiva dal punto di vista dell'accertamento della verità. Perché intanto tutto questo suo gruppone di fan non ha mai voluto prendere consapevolezza del fatto che comunque lui aveva avuto dei problemi seri con il doping e ce l'aveva avuti e questi avevano nuociuto anche al suo assetto psicofisico. Quindi se si nega questa cosa non si arriverà mai a niente finché si nega questa cosa. Dopodiché la presenza di altre persone sul luogo possono far immaginare, vedete qua c'è tutte le tabelle che pubblicai, possono far sospettare anche altre piste investigative. Mi raccontarono dei carabinieri sostanzialmente, mi dissero che lui avrebbe dovuto incontrare da lì a pochi giorni degli investigatori per parlare non si sa di che cosa. Non si sa di che cosa. Ci sono le solite ipotesi diciamo più complottiste che dicono addirittura non è un caso che lui fosse in uno chalet che si chiamava delle rose, non è un caso. Forse lui era dentro un giro, voleva uscire da questo giro, voleva andare a incontrare i carabinieri magistrato per raccontare delle cose, l'hanno ammazzato. Sicuramente, io non lo so, queste sono ipotesi, sono proprio solo ipotesi. Io qui vorrei leggervi un pezzetto di un'intervista che pubblicai per la prima volta parla il maresciallo dei carabinieri del NAS che interrogò Pantani, maresciallo Enrico Ostili. Allora, lui disse che fino a un certo punto riuscì a seguire la logica di Pantani, Pantani, poi dopo dice non sono più riuscito a capirlo e a seguirlo perché l'atteggiamento del NAS non era ostile, il gioco di parole ostile e ostili. Perché? Perché l'obiettivo del NAS non era tanto quello di incastrare Pantani ma era quello di utilizzare, diciamo così, un personaggio come Pantani per la lotta al doping. Perché la loro lotta al doping partiva proprio dal fatto, dalla considerazione che quelli più a rischio erano i dilettanti, erano i giovani, erano i ragazzi. Loro si erano concentrati su questa indagine lasciando il reparto operativo antidroga. Dopo che avevano parlato con questo ragazzo che chiamava Matteo che a forza di abusare di farmaci che la società lo costringeva a prendere per poter diventare professionista, era finito praticamente sulla sedia a rotelle, non aveva più neanche la forza per allacciarsi le scarpe. Questa immagine così forte spinsero, spinse questo nucleo di carabinieri che erano, i primi erano tre, il maresciallo Fulvio Gori che è scomparso, poverino, il maresciallo Enrico Ostili che oggi non appartiene più all'arma e il maresciallo capo Renzo Ledivo che è diventato uno dei massimi, scusate Renzo Ferrante, Renzo Ferrante che è diventato uno dei massimi esperti di doping a livello mondiale, lo chiamano in tutto il mondo perché loro sono i tre che hanno avuto in custodia Marco Pantani, perché loro dicevano se Marco Pantani dice pubblicamente che il doping fa male, noi abbiamo fatto un un'azione incredibile verso i giovani, perché lì sì che c'era il problema della camorra, perché il mercato nero dell'EPO, del GH, dell'ormone della crescita è gestito dalla camorra, gestito dalla criminalità organizzata al mercato nero e pensate che sequestrarono una partita di ormone della crescita estratto da cadaveri di cavalli contagiati dal morbo della mucca pazza, questa fu un'operazione clamorosa della guardia di finanza di Torino, pensate che roba, ecco e quindi questi giovani atleti, questi ragazzini 12, 13, 14, 15 anni, i genitori andavano al mercato nero a comprare questa roba e gliela facevano prendere a loro, quindi pensate, questo era lo scopo, noi abbiamo l'opportunità di dare una amazzata al doping, invece questo non avvenne, nonostante diciamo una specie di accordo, Pantani invece dopo disse il complotto contro di me eccetera eccetera. E allora io feci una domanda precisa, durante l'intervista al maresciallo Stili gli chiedemmo, si parla di complotti di un Pantani martire, c'è del vero? Lui mi rispose così, gli unici complotti hanno interessato le nostre indagini, nel 1996 il giro di Italia partiva ad Atene e fu informato del fatto che sulla nave che avrebbe riportato i corridoi in Italia, Brindisi, c'erano farmaci proibiti, all'epoca ero al reparto operativo antidroga, il pubblico ministero di Arezzo, la corsa vi avrebbe fatto tappa, Vincenzo Scolastico ci diede mandato di perquisire tutta la carovana, ma il blitz fu reso vano, ascoltate, fu reso vano perché anticipato dalla gazzetta dello sport, una talpa parlò qualcuno di importante sospetta, quindi lui dice altro che complotto contro Pantani, il complotto fu fatto per fermare le indagini contro il doping che riguardavano anche Pantani. Allora, e Marco non parlò mai delle schifezze che giravano? L'ho interrogato, il suo nome ce lo siamo sempre portati dietro fino al 2001, quando il magistrato Fiorentino Bocciolini indagava sul fenomeno. I ciclisti sono bugiardi per natura, dice Maresciallo Ostili, ma in alcuni frangenti mi è parso sincero e tra le righe ha fatto intendere qualcosa, è stato vittima e complice, se gli fossimo stati dietro di più, magari in una veste più informale, forse si sarebbe aperto. Perché questa omertà? E se parli sei fuori, guardate cosa è accaduto a Ivano Fanini, presidente della squadra Amore e Vita. Dopo le denunce non ha più preso parte alle grandi classiche o al giro. Questa piaga riguarda moltissime discipline e l'inchiesta del pubblico ministero Pierguido Soprani a Ferrara, incentrata su Conconi e sul Coni, l'ha dimostrato. Anche lì c'era Pantani. Soprani, anziché un premio, ha ricevuto pressioni che hanno sancito il suo addio alla magistratura. Pantani era anche il migliore amico di Romano Prodi. Questo per dire, Pantani scusate, Conconi, sto facendo confusione con i nomi, Conconi, il professor mitico, il professor Conconi era anche il migliore amico di Romano Prodi. Il giorno che fu rinviato giudizio, contemporaneamente fu eletto rettore dell'Università di Ferrara. Quindi quando parliamo di docking parliamo di potere, quando parliamo di Pantani parliamo di un grande atleta che però è rimasto vittima di questo potere, è rimasto incastrato in questo potere e se non si parte dal capire e dallo scoprire, ciao Iggy, qual è stato il suo vero rapporto con il doping, non si capirà mai niente perché il doping è potere, sono le grandi società che obbligano gli atleti a prendere le sostanze. Se non prendono quelle sostanze, non prendevano quelle sostanze, erano fuori, erano fuori. Sono stati indagati il figlio del dottor Santuccione, il professor Michele Ferrari, sono stati tutti indagati, tutti rinviati a giudizio, ma sono tutti lì che continuano a fare questa attività, prendono studi all'estero e grandi atleti, grandi atleti, grandissimi atleti, famosissimi atleti, vanno costantemente da loro si fanno fare i protocolli con le sostanze, i giorni, eccetera, eccetera. Questo su indicazione delle società. Per cui è lì dentro che c'è una parte della verità sul mistero Pantani. Dopodiché io dal punto di vista giornalistico sono abbastanza propenso a pensare che Pantani non si sia tolto la vita e che Pantani non sia morto di cause naturali. Io sono propenso a pensare che Pantani sia stato ucciso e tra le tante ipotesi io penso che Pantani sia stato ucciso prima che raccontasse qualche cosa. Prima che raccontasse qualche cosa. Sicuramente non credo alla pista delle scommesse, di queste robe qua, perché che cosa raccontano tutti della Camorra, dell'Andrangheta, dovremmo essere morti tutti. No, io penso che ci sia qualche altra cosa che toccava il potere e credo che per quello sia stato ucciso. vedo che non mi avete seguito tantissimo in tantissimi, però se volete torneremo sulla morte di Marco Pantani e del Pirata. Sono stato tranquillo perché a tanti fan mi rischiavo di far arrabbiare tante persone. Io penso questo come moralina finale, se vogliamo darla, al netto del fatto che sono propendo per l'ipotesi omicidio. Io penso che lui abbia perso l'occasione per diventare un mito vero, perché lo sport è vita, lo sport è salute, il doping è un trucco, il doping è una morte. Grazie. Grazie.